Grazie a tutti. Dovresti dare un'occhiata fuori. Non riuscirai a fermarla, il suo potere sta già aumentando e la cosa non può che peggiorare. Rischiare, non abbiamo altra scelta. C'è un'alternativa, sto cercando un interlumbre posto, c'è un volo per distruggermare. Dami con i dati maledetti. Ok, va bene, metti, prendi. Questo è punto di serpente, sbrigati, i tizi di Armacam saranno qui tra poco. Chedeniev ha chiuso tutto per mandarle in tiste ma avanzano distruggendo le porte. Sono fuori dal sistema e non posso essere d'aiuto. Cerca un terminal di sicurezza per disattivare il blocco. La password è punto di serpente. Deve avere appena mandato in tiste il sistema della zona. Alla grande sono arrivati i rinforzi. 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 Grazie. 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 No vedo. Seguenza completa. Lasciaci. La camera… La notulazione è accessibile. Oh 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 Grazie. 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 A proposito, hai mai visto un combattimento di ippopotami? Fanno la cacca e agitano la coda come matti e la cacca schizza dappertutto. È una cosa allucinante. Ecco. È solo un prototipo e ha ancora dei difetti, ma non è per nulla malaccio. Usciamo subito di qui. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.